E' stata presentata la stagione concertistica 2024 dell'Orchestra Barocca Siciliana, sostenuta dal Ministero della Cultura dalla Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Siracusa. Alla presentazione ufficiale alla Sala Stampa Archimede hanno partecipato il presidente dell'Associazione OBS, Luca Ambrosio, clavicembalista e musicologo, il vicepresidente dell'Associazione Poste Cinema Ludovico Leone e l'assessore alla cultura Fabio Granata. Le forme della musica, sarà questo il titolo assegnato all'intera rassegna, composta da 12 concerti che si svolgeranno prevalentemente in provincia di Siracusa, con qualche tappa in più fra Trapani e Palermo. Diversificata l'offerta stilistica che l'Orchestra Barocca Siciliana proporrà al pubblico per rispondere alle svariate preferenze. Al cartellone principale quest'anno si affianca anche il Cine Music Fest 2024, quattro appuntamenti dal 6 febbraio al 21 maggio con proiezioni e musica dal vivo che si terranno al Biblios Cafè in via del Consiglio originale a Ortigia in collaborazione con l'Associazione Poste Cinema e gli strumenti della musica antica. Quest'anno presentiamo 12 concerti, da gennaio a dicembre 2024, cui abbiamo aggiunto altri tre concerti molto particolari, li abbiamo chiamati Cine Concerti, perché sono concerti che prevedono l'abbinamento della musica dal vivo con le proiezioni cinematografiche in collaborazione con l'Associazione Post Cinema. E in più abbiamo istituzionalizzato un esperimento dell'anno scorso, che è quello delle lezioni concerto per le scuole, che avrà un calendario di quattro appuntamenti più un gran galà iniziale. Dove terrete questi concerti? Per la stagione invernale autunnale, presso il Santuario della Madonna delle Lacrime, la Sala Giovanni Paolo II. Invece da maggio fino a settembre torneremo nel nostro luogo abituale, che è il Chiostro del Convento dei Cappuccini, un posto bellissimo, magnifico, nel cuore della città, con un'acustica straordinaria e una scenografia naturale imperdibile. Quali sono gli artisti che faranno parte di questo ciclo di eventi? Allora, sono tantissimi ovviamente, e i nomi più importanti possiamo citare Monica Tott, che dall'Ungheria viene col suo violino per deliziarci della sua arte, un complesso di cantanti francesi, l'Ensemble La Consonance, da Tour, che verrà a maggio. Avremo Claudio Brizzi, un singolare figura di organista, pianista, improvvisatore, esecutore su strumenti veramente molto variegati. Si porterà dietro una specie di piccolo museo di strumenti a tastiera, infatti il suo concerto si intitola La Tastiera Infinita, e li presenterà al pubblico ed anche al pubblico delle scuole. Poi chiaramente ci saranno i concerti con l'orchestra barocca siciliana schierata al completo, e diversi ensemble, tra cui l'Insieme Strumentale di Roma, l'Arian Art Ensemble, e veramente tanti altri che è difficile dirgli tutti così, uno dietro l'altro. Il Cine Music Fest è nato il 4 luglio 2023, in collaborazione con l'orchestra barocca siciliana, e consiste appunto in una serie di cine concerti, in cui noi, di Posto Cinema, proietteremo una serie di spezzoni estratti dai grandi capolavori della storia, e dal vivo avremo i nostri musicisti collaboratori, che eseguiranno dal vivo le colonne sonore, estratte appunto da questi film. Noi fondamentalmente cerchiamo sempre di spiegare quello che è il contesto storico, la realizzazione e i grandi autori a un pubblico spesso estremamente variegato, non solo facente parte, diciamo, dell'entourage, ma anche all'interno del Bibbioscafè, che è il luogo appunto in cui avverranno i nostri principali appuntamenti. Grazie.